Istituto per Geometri Ciancarelli I luoghi in cui sono adibite le attività della scuola Con la professoressa Lidia Nobili, dirigente scolastico dell'Istituto Parrone che comprende liceo artistico, Calcagna d'Oro e l'Istituto per Geometri Ciancarelli Infatti questa sera siamo qui all'Istituto Ciancarelli, l'Istituto Geometri è importante ribadirlo e ricordarlo perché ci segue anche un po' da tutta la provincia di Rieti questo splendido istituto che appunto questa sera avete modo anche di vedere con queste belle aule accoglienti, laboratori, le palestre, l'aula magna e l'invito alle famiglie, agli alunni di venirci a trovare non solo in questi giorni in cui c'è i cosiddetti open day, la scuola aperta ma quando volete, perché noi teniamo molto, sia il dirigente sia tutti gli insegnanti teniamo molto a questo istituto anche perché vogliamo che torni fiorente come lo era nei tempi trascorsi io mi ricordo quando andavo a scuola diciamo che organizzavamo molti incontri molte anche iniziative insieme all'Istituto Geometri anche perché era pieno di ragazzi ovviamente ed era un istituto estremamente numeroso allora diciamo che è importante che le famiglie ma anche i ragazzi si rendano conto delle opportunità che oggi offre questo istituto una scuola che vi dà l'opportunità di cominciare a lavorare subito dopo il diploma per chi non volesse continuare anche gli studi, che vi dà un diploma spendibile immediatamente ma anche da un punto di vista diciamo personale e professionale pensate la bellezza e anche la soddisfazione di vedere realizzato un palazzo, una casa, una villa che voi avete pensato nella vostra testa, che avete realizzato poi su un disegno, su un progetto e quasi come per magia ve lo vedete nascere nella realtà io credo che soltanto questo potrebbe essere sufficiente per volersi iscrivere a questa nostra scuola io Francesco quasi quasi mi ci iscriverei se faccio ancora in tempo fai in tempo, fai in tempo, grazie bene, vi aspettiamo qui da noi con il professor Sandro Ruffo, instancabile vicepreside del nostro istituto una ragione per la quale i ragazzi dovrebbero iscriversi al nostro istituto beh un pochino sta nel titolo dell'indirizzo di studio cioè costruzione, ambiente e territorio non solo occuparsi delle costruzioni nuove ma anche di quelle esistenti da un punto di vista dell'antesismica, del contenimento energetico anche della parte dell'arredamento quindi ogni uomo ha bisogno di uno spazio tutte le attività umane, da quelle della cucina, da quelle della sanità tutte le attività umane si svolgono all'interno di uno spazio qualcuno bisogna che se ne occupi i ragazzi che intendono occuparsi degli spazi cioè sia dell'ambiente che del territorio che delle costruzioni hanno qui l'opportunità per formarsi è vero quali sono le materie più innovative che si studiano oggi in questo istituto e che proiettano i ragazzi nel mondo del lavoro di domani? noi siamo in continua lotta un po' con una lotta diciamo ideologica con diciamo i professionisti che vengono da questo istituto perché perché loro hanno la nostalgia di questo istituto di tutte le attività che si svolgevano con la riga, con la squadra, con gli strumenti di una volta però purtroppo cioè per fortuna noi adesso ci dobbiamo muovere con nuove tecnologie sia nell'ambito della topografia sia nell'ambito della progettazione e quindi utilizziamo degli strumenti che ci fornisce il collegio dei geometri perché c'è una grandissima collaborazione con il collegio dei geometri e quindi laser scanner, GPS e poi stiamo partendo con i ragazzi del primo col building information modeling cioè il cosiddetto BIM la progettazione diciamo integrata per cui sarà possibile progettare e operare su un unico progetto lavorando da più parti del mondo e lo stiamo già realizzando in inglese in modo tale che i ragazzi si facciano trovare pronti per le esigenze del futuro adesso andiamo a visitare proprio un laboratorio ok grazie col professor Giovanni Zia insegnante di topografia nel nostro istituto illustraci questo laboratorio allora questo è il laboratorio informatico dove gli studenti fanno dei progetti relativi sia alla topografia che alla costruzione di edifici in particolare abbiamo alle nostre spalle uno strumento che è un distanziometro elettronico che per mezzo della digitalizzazione sul display che vedete qui si può calcolare la distanza e anche i dislivelli del terreno quindi è necessario per i rilievi all'esterno delle planimetrie e dei terreni che oggi servono sia per fare pratiche catastali sia per, diciamo, quindi a cadastrare fabbricati sia per i candieri edilizi dove necessita determinare l'andamento del terreno come superficie e come dislivelli in particolare i giovani in questo laboratorio imparano al terzo anno le regole topografiche sia dal punto di vista della topografia pratica sia teorica con trigonometria e leggi sull'ottica sulla rifrazione e oggigiorno dalle linee guida è stato introdotto anche la normativa catastale dei software catastali tipo il programma Pregeo e di Doc fa che quest'anno in qualche modo cerchiamo di insegnare ai ragazzi perlomeno come fondamenti poi con la pratica professionale loro diventeranno professionisti e potranno lavorare nel mondo del lavoro ecco questo istituto a differenza degli altri permette ai giovani di entrare nel mondo del lavoro subito con una preparazione tecnica che è necessaria per accedere ai posti pubblici sia come tecnici comunali sia come tecnici catastali sia come assistenti e geomeri dei candieri edilizi e chi vuole può proseguire all'università scegliendo la facoltà che meglio si adatta ai propri diciamo la propria preparazione al proprio intendimento sulla scelta della vita grazie Giovanni e richiamoci in altri laboratori ora siamo nell'aula di informatica del Ciancarelli in compagnia sempre del vicepreside Sandra Ruffo infaticabile e anima proprio del nostro istituto cosa si fa in quest'aula? qui si fanno diverse attività si fa dalla parte informatica per i ragazzi del primo anno alla parte di progettazione costruzioni e impianti alla parte di sicurezza cantiere la parte diciamo che si può fare con i computer con i software e quindi la mattina logicamente qui è pieno di ragazzi e di docenti che si occupano delle varie delle varie branche della progettazione e del disegno ci sono tutti i software diciamo più aggiornati e quindi ecco la mattina i ragazzi si cimentano in queste esercitazioni quello che vediamo in questa lavagna luminosa che cosa tratta? diciamo con i ragazzi del primo stiamo cominciando ad utilizzare il Revit che è un programma che serve per la realizzazione del BIM cioè del Building Information Modeling come possiamo dire già in inglese i ragazzi logicamente stanno facendo i primi rudimenti e quindi si muovono oramai direttamente con il 3D e l'autocad sostanzialmente lo stiamo quasi abbandonando perché non ci permette di avere le stesse performance che abbiamo con questo tipo di programma quindi come hai detto qui è una continua evoluzione proprio tecnologica sì diciamo i ragazzi che apprendono queste tecnologie logicamente sono dedicate soprattutto nell'ambito delle costruzioni dell'ambiente e del territorio ma logicamente sono delle delle potenzialità che loro possono sviluppare diciamo per anche spendibili in altri ambiti sicuramente in altri ambiti perché la parte informatica è molto molto spinta dato che parli di spendibilità rapidamente un diploma come questo oltre alla libera professione come è spendibile nel mondo attuale sì c'è stato diciamo nei nostri giri di orientamento per la provincia anche fuori provincia e vediamo che c'è un po' di diciamo di equivoco sul fatto che non si possa fare la professione del geometra dopo questo diploma questo diploma è l'unico che può fornire la possibilità di fare il geometra come professionista dopo 18 mesi di praticantato presso uno studio oppure dopo 6 mesi di corso intensivo oppure un ITS cioè ci sono diverse opportunità per fare il geometra professionista però noi abbiamo delle rilevazioni della fondazione Agnelli che ci dicono che grossomodo un 40% dei ragazzi che escono da qui si applicano nella professione o in altre attività dell'altra metà c'è una performance diciamo di un successo nelle lauree non solo in quelle tecniche scientifiche ma anche in altri tipi di laurea proprio per le per le competenze che acquisiscono in questo tipo di istituto non dimentichiamoci che le discipline che si studiano matematica fisica chimica scienze diritto economia sono materie che possono essere assolutamente riutilizzate come brutto termine però diciamo possono essere riutilizzate in diversi ambiti c'è tutto l'ambito anche giuridico della consulenza per i tribunali è veramente una cosa per certi aspetti sterminata i ragazzi logicamente non riescono a raggiungere l'optimum in tutte le branche però a seconda poi delle esperienze negli studi dove si trovano in grosso modo riescono ad affrontare diverse tematiche in grosso modo